Eccolo qua, arriva un grande fisioarmonicista, grande esponente della fisioarmonica. Edmondo dice che è il più grande di tutti. Con tutto rispetto per tutti gli altri fisioarmonicisti, però qui siamo in Serie A il massimo. Daniele. Grande Daniele. Mi esagera sempre Edmondo, grazie. Guarda, è la verità Daniele, credi? Daniele ci fa ascoltare una polca mitica del maestro Borghesi. Nel 1973 nell'LP La Mia Valle c'è dentro questa tangenziale. Daniele Donadelli. Daniele Donadelli. Daniele Donadelli. Buon 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 Bu Grazie a tutti Daniele Donadelli per voi, la tangenziale. Grande Daniele, grande.